Allora diamo la parola che accogliamo con un applauso che riesce a tenere tutti gli aspetti negativi dal punto di vista giuridico e lo fa a titolo gratuito Gli applausi sono troppo facili, io gioco in casa quindi li ho perscondati Io invece stasera voglio farli a voi tutti gli applausi e credo che questa sia la volontà di tutti i presenti Voglio fare a tutti voi gli applausi perché ci avete fatto sentire orgogliosi di appartenere a delle comunità rotonde di Gianello Dove forse dovrebbe essere un esempio anche per altri comuni e per altre istituzioni Si discute avendo a riferimento l'interesse di chi vive nei comuni E avete dimostrato stasera, io ho pressato molto l'intervento del capogruppo di minoranza Enza di Consoli Avete dimostrato stasera che quando si ragiona e si ragiona col cuore e si fanno le scelte intelligenti nell'interesse della gente Non c'è e non ci deve essere distinzione di posizioni politiche Dico loro Rivendico per tutti questi amici che da anni stanno portando avanti questa battaglia Il fatto che questo è un movimento che non ha mai avuto connotazione di partito E' vero, io per primo ho puntato l'indice e continuerò a farlo nei confronti di determinati soggetti politici Ma questa è una constatazione E' evidente che durante questo lungo cammino noi abbiamo incontrato dei politici che hanno remato contro E dei politici che ci hanno dato una mano Purtroppo erano quelli che avevano meno potere rispetto ai primi Questo non significa che il movimento vuole schierarsi da una parte o dall'altra Significa soltanto che il movimento ovviamente valuta criticamente il comportamento di chi fa politica E chi ad oggi ha fatto politica non ha mai avuto a cuore gli interessi di Rodon De Bigianello Non li ha avuti a cuore certamente rispetto alla problematica di una centrale che è stata qui calata dall'atto Quando questo progetto è stato presentato le comunità locali non ne sapevano nulla Si è saputo qualcosa quando era stata già rilasciata la prima autorizzazione dalla provincia di Cosenza Ed è grave perché oltre ad essere irrispettoso del diritto all'autodeterminazione delle collettività Integra una gravissima violazione di legge Perché questo tipo di progetti, proprio per l'impatto notevolissimo che hanno sul territorio Esigono il massimo del risalto pubblicitario, del coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni Anche per valutare la ragionevolezza e la compatibilità dell'intervento con lo sviluppo di un territorio Questo non è accaduto Non è accaduto né in quella prima fase Non è accaduto neanche successivamente che qualcuno si sia preso la briga di verificare quali potrebbero mai essere gli aspetti positivi di una mega centrale Che qui non ha portato alcun tipo di benessere economico Cominciamo con lo sfatare questo mito perché fino a qualche tempo fa L'Enel e qualche comune che è parte integrante della politica dell'Enel rispetto a questa posizione Poiché non si discosta affatto dalle tesi dell'Enel Aveva parlato di mille posti di lavoro Dai mille posti di lavoro siamo scesi a cento Ma non esistono neanche cento posti di lavoro La centrale, lo ricordo a tutti, sta già funzionando da quasi sei mesi Dal 19 giugno la centrale è in esercizio Voi avete visto assunzioni Avete visto la creazione di posti di lavoro nell'indotto Devo ricordare la provenienza dei canyon che invadono le nostre strade E vorrei che quella dignità che voi tutti avete dimostrato qui stasera L'avessero con un colpo di reni i politici della regione Basilicata Io non mi attendo nulla dalla regione Calabria La regione Calabria ha trovato comodo accontentare degli imprenditori Che evidentemente hanno dei buoni collegamenti con gli organi regionali Ma la regione Basilicata avrebbe dovuto tutelarci Quello che noi abbiamo più volte lamentato nel comportamento dei nostri politici È la mancanza di un loro intervento La regione ha deliberato Qui ci siamo ricordati stasera di sottolineare Le delibere adottate dalla comunità del parco E dal consiglio direttivo a cascata Voi ricorderete All'epoca il sindaco di Bigianello era Antonio Fiore Perché mi piace rimarcare il fatto Che a Bigianello non c'è mai stata soluzione di continuità Ancora prima di Antonio Fiore, sindaco e stato Tonino Anastasio Le nostre posizioni sono state sempre assolutamente uguali Maggioranza, minoranza, l'intera collettività è stata sempre nettamente contraria a questo incanto La regione Basilicata dedicò una seduta del consiglio regionale a questo argomento Con una scarsa sensibilità ci fece attendere dalle 9.30 del mattino alle 7.30 di sera All'epoca il presidente della regione era Vito Di Filippo Attendemmo fino alle 7.30 di sera per poter discutere di questo argomento Evidentemente pensavano che la gente si stancasse e andasse via Siamo rimasti tutti C'era gente anche anziana con dei problemi di salute Che è rimasta lì perché non hanno avuto il buon gusto di anticipare la trattazione di questo argomento Alla fine però la regione si espresse con un deliberato con cui dichiarava netta contrarietà all'impianto Sarà stato un deliberato di facciata ma la delibera adottata è quella Allora io vorrei ricordare anche alla regione Basilicata Che bisogna partire da quella delibera che nessuno mai ha revocato E quella delibera dice quello che è ovvio Lo diceva prima il consigliere Laurita Ma è evidente, sono state elencate tutta una serie di ragioni giuridiche Che rendono palesemente evidente la grave illegittimità dell'autorizzazione unica che è stata rilasciata Ma non c'era bisogno di scomolare il diritto Basterebbe appunto un minimo di decenze e di consenso per comprendere che in un parco Una centrale di quelle dimensioni non ha alcuna compatibilità Né ambientale, né industriale, né giuridica, né di impatto sulla salute dei residenti Sulla qualità dell'ambiente e sulla vita nel territorio Il parco è il nostro nemico come qualcuno di loro dice? No, noi non è stato evidentemente ben indeso il senso molto alto dell'intervento del vice sindaco Di Gerry Fronduto che ha dimostrato, mi piace questa parentesi personale e doverosa nei suoi confronti Ha dimostrato un'onestà intellettuale che probabilmente gli faranno anche pagare sul piano personale Ha dimostrato un'onestà intellettuale da prendere ad esempio Ma come tutti quanti gli amministratori che hanno condotto questa battaglia Devo fra l'altro ricordare anche con coinvolgimenti personali diretti Voi ricorderete, chi di voi il 15 novembre si trovava al Tacca Danzaro Per l'udienza ultima della causa contro Enel Regione Calabria ed Endeparco tutti assieme appassionatamente Ricorderete che un funzionario dell'Enel Peraltro uno di quelli solitamente più tranquillo Quello più presentabile Tra quelli che vengono normalmente a rappresentare le regioni dell'Enel Evidentemente il reddito dall'andamento dell'udienza Ha aggredito il sindaco Corraro Spingendolo E mandandolo praticamente a quel paese Ci sono tra l'altro dei filmati Quindi quello che dico è facilmente dimostrabile Noi non abbiamo nulla contro l'Endeparco Al contrario la proposta fatta dal vice sindaco di Vigianello E' proprio nel senso di rimarcare l'interesse che c'è verso un parco L'amore direi che c'è da parte di queste collettività verso il parco E che purtroppo molte volte in questo paese Per affermare qualcosa bisogna fare esattamente il contrario La sua è una denuncia provocatoria Di dire noi vogliamo politicamente uscire dal parco Se il parco è questo Se il parco è rappresentato da questi signori Che hanno fatto scempio dei valori del parco Noi siamo qui Noi siamo qui a tutelare il territorio e a fare il loro mestiere Loro non l'hanno fatto, non l'hanno saputo fare E dicevano bene quelli che mi hanno preceduto Non è un problema soltanto della centrale del mercore Questa centrale è soltanto il punto finale delle contraddizioni di una politica Che si è saputa esercitare soltanto in clientelismo di altri tempi Nell'elargizione di prebende ai comuni Per la festa padronale magari Oppure per qualche progetto Privo dell'inserimento in una programmazione d'assieme In tutte le zone dove vi sono dei parti È arrivato il benessere Il reddito medio pro capite è salito La gente ha tratto benefici economici dal parco Qui tutto questo non è successo Qui il parco ad oggi ha significato esclusivamente limiti Vincoli, preoccupazioni di incorrere nelle violazioni più banali E io trovo veramente sconcertante Lo dico ogni volta Quando mi capita di difendere qualche cliente Per accuse che in qualche modo Vedono l'ente parco come soggetto offeso Ma come è accettabile sul piano morale Che c'è gente che va sotto processo Perché realizza la tettoia in legno Dopo aver atteso magari anni per l'esame di un progetto E poi si consente uno scempio di quel genere Che è una minaccia per la salute di noi tutti E per le nostre collettività Allora non siamo noi contro il parco È il parco che si è schiarato contro di noi E rispetto a questa sciagurata gestione del parco È giusto dire Noi pretendiamo da parte del Ministero dell'Ambiente Un'attenzione che ad oggi non c'è stata Il Ministero dell'Ambiente deve sapere Come viene gestito il pubblico Se questa gestione va bene Allora lo dicano E si assumano anche loro le responsabilità Perché per fortuna Abbiamo le stalle forti Se è necessario Faremo la voce grossa Qui la faremo a Potenza La faremo a Roma La andremo a fare a Busset Certamente dovrebbero aver capito In tutti questi anni Con chi hanno a che fare Noi non solo non ci comprano Ma non ci immimoriscono nemmeno Ci hanno provato Con tutti e due i sistemi Credo Ma non riescono a zittirci Le nostre coscienze Per fortuna Sono critiche Sono aperte E riescono a volare più in alto Rispetto a degli interessi di bottega Io vorrei soltanto evidenziare A conclusione di questo mio intervento E credo che si possa fare un po' sintesi Fra quello che ho sentito Da parte dei vari politici Che sono intervenuti Nella precedente discussione Che si possa consentire Un maggior approfondimento Di questa tematica Anche per l'urgenza Necessariamente imposta dai tempi E quindi un aggiornamento Di questo consiglio comunale congiunto In prosecuzione dei lavori Per tutti gli approfondimenti Ritenuti opportuni Anche per calendizzare Tutta una serie di iniziative Che credo sia opportuno fare Perché è vero Noi dobbiamo mantenere alta L'attenzione su questo problema Qualunque sia la formula Che non può essere sempre la stessa Anche perché altrimenti Perde di forza propulsiva Ma dobbiamo organizzare Delle forme Direi Razionalmente Studiate a tavolino Di protesta Fin quanto questo problema Non viene definitivamente risolto Come pure si può proporre L'indegrazione Già di questa bozza Di Deliberato Quello che ha detto Enza di Consoli Cioè Al di là del commissariamento Al di là di un'opportuna verifica Di quella che è stata La gestione Dell'Ende Parco E di come sia possibile Che l'Ende Parco Per cercare di coprire Le sue inefficienze L'incapacità Che ha avuto Di utilizzare il territorio Come volano di sviluppo Per le collettività Che lo occupano Oggi trova facile Cercare Aiuti economici E l'aggizione di denaro Agli enti Ai comuni Senza una funzionalizzazione A mitigare gli effetti negativi Dell'inquinamento Prodotto dalla centrale Trova facile Ricorrere a questi sistemi Non è questo Che noi vogliamo Non è questo Che ci deve essere Su questo territorio La proposta Di smandellare La centrale È una proposta Che non può che trovarmi Ovviamente d'accordo Devo dire Noi abbiamo già Fatta propria In precedenti deliberati C'è una delibera Del comune di Vigianello Dove già Si è espressa La volontà Dipendesse da noi Andremo a smandellare Allarla già stasera Vale ovviamente Come proposito E come dichiarazione Forte Di principio Che credo Ci stia bene In questo contesto Quindi io Mi permetto Di sottoporre Alle vostre valutazioni Il fatto di dire Aggiornate eventualmente Questo consiglio Che è una bella pagina Di democrazia Ed è una bella pagina Di partecipazione corale In cui non ci sono spaccati I due comuni Insieme Maggioranze Opposizioni Insieme Che dicono no A questa centrale Per approfondire Questa tematica Trapportare elementi nuovi Non solo Sul tema Ma anche sulle proposte Che si intendono Elaborare Per far sì Che questa centrale Venga smandellata E anche per meglio Formulare Il deliberato finale Da mandare A tutti i soggetti Politici Con i quali Dobbiamo confrontarci Credo Che possiate valutare L'opportunità Di un aggiornamento A breve Affinché si possa Integrare Questo deliberato E si possano apportare Ulteriore elementi di studio Noi vi ringraziamo E vogliamo Assieme a voi Continuare In questa questione Che certamente Non finirà breve Perché qualunque sia L'esito Della sendenza Davanti al TAR E io ritengo Che quest'esito Posse Debba essere Positivo Perché l'evidenza Delle ragioni giuridiche Che noi abbiamo portato Davanti al TAR Sono tanti e tali Io ho scritto Pestualmente Che sono Dei motivi Di legittimità Esagerati E che l'evidenza Delle nostre ragioni È tale Da poter vincere Non una causa Ma cento Basta soltanto Che in Italia Ci si ricordi Che la legalità È un principio Che tale Non vorrei Per dirla Con quel comico Che da dire Che in Italia Di legale C'è solo l'ora Ma purtroppo Non dura nemmeno Tutto Bravo